E sì, porca miseria, spero di sbagliare con tutto me stesso perché è un nome che ho fatto all'inizio del mio video del calciopercato che farei, uscito prima dell'inizio ufficiale del calciopercato, successivamente l'ho fatto in parecchi shorts, niente, UAE, cambia squadra, non viene al Milan, non va al Chelsea, adesso parliamo di lui ma soprattutto andiamo a parlare delle uscite che condizionano inevitabilmente il calciopercato finale, questi ultimi due tre colpi da fare per completare il reparto alla squadra, al 100% e non lasciarci, speriamo, la cune. Detto questo capocce mie, buon pranzo a tutti, innanzitutto lo dico sempre, polliciotto in su, like al video, facciamo arrivare questo video a quanti più persone possibile, iscrivetevi al canale, raggiungiamo i 3000, ma che dico le 5000 capocce, belle, dure e testate e soprattutto per i già iscritti attivate la campanellina. Allora ragazzi, purtroppo è un nome che ho fatto sempre all'inizio mercato, speravo di far arrivare nel mio piccolo, io e tanti altri canali molto più grandi di me, la pulce all'orecchio di casa Milan, è un giocatore che è sparito gradualmente da Rade e Rossoneri. Uai passa a Lenz per una cifra complessiva di 35 milioni, bonus compresi, quindi non era vero le famose richieste enormi del Montpellier da 45-50 milioni. Il calciatore passa a Lenz, un Lenz che ha venduto a peso d'oro, Penda, Lipsia per qualcosa come 50-45 compresi bonus. Quindi ragazzi, il giocatore fa una scelta secondo me giusta, perché è un 2003 ragazzi, un 2003 deve giocare. Rifiuta il Chelsea che aveva trovato a sua volta l'accordo con il Montpellier da tempo, lo rifiuta perché il Chelsea in questo momento è una cozzeria di giocatori fortissimi, ma una cozzeria di giocatori rimane. Quindi da questo punto di vista andare a giocare al Chelsea in questo momento rischi di finire nel tritacarne. Lui in 2003 vuole giocare, ha deciso di andare a Lenz, rimanere in Francia, quindi nella sua zona di comfort, ma passare in una squadra che giocherà la Champions quest'anno, quindi inizierà a calcare valcoscenici importanti. E quando è così ragazzi, dovesse fare bene, noi in futuro possiamo ampiamente dimenticarci di un calciatore come Uai perché ha comprato 35, dovesse fare bene ragazzi, se dovesse fare quei 15-18 gol in Francia, quei 3-4 gol in Champions League, poi chiederebbero qualcosa come 55. 60 milioni di Lenz è una società ricca, il Lenz l'abbiamo visto con la pendana, non ha calato di nulla le sue pretese e alla fine ha avuto ragione lei. Quindi nulla, io l'avevo più volte designato come il calciatore perfetto per il Milan, un calciatore veramente molto bello da vedere, elegante, forte, che può fare tutto, la prima punta, la seconda punta, forte fisicamente perché parliamo di 1,85 e ripeto, del 2003. Poteva essere un talento generazionale per il Milan, il Milan alla fine poi è uscito da Radel perché comunque è un calciatore la cui testa non è sempre stata al 100% professionale, è anche vero che a questa età, per carità, è meglio giocartele tutte e ora, le cavolate. Non ha mai fatto cavolate enormi come Balotelli da giovane, però è sempre stato un po' invischiato in vicenda extracampo, che l'hanno visto sempre uscire pulito, però non è mai bello, non è mai bello quando questo accade. Niente, speriamo di non mangiarci le palle e passiamo avanti, passiamo avanti perché io innanzitutto faccio un applauso, un applauso al nostro giocatore che ha vinto un ambitissimo premio intellettuale, Balotelli vince il premio ufficiale 2023 come calciatore più riflessivo dell'anno. Un applauso a Balotelli che pensa da 45 giorni come levarsi dalle palle, ma ancora una squadra non la scelta, porca miseria. Niente, Balotelli ragazzi doveva andare al Verde Embrema, poi la trattativa, il Milan ha trovato l'accordo con il Verde Embrema, e il giocatore ha congelato il Verde Embrema perché il suo procuratore contemporaneamente sta portando altre offerte per lui. Una vicenda stucchevole che spero poi possa vedere Balotelli andare via dal Milan. Il Milan dicono che abbia già preso il sostituto, Calafiori, molti storcono il naso. Io invece capisco la scelta del Milan perché il Milan crede molto in Bartesaghi. Quindi, vuole prendere un calciatore che non... Spero poi il Milan spera di concludere questa trattativa in prestito con diritto, che in qualche modo non sia obbligato al riscatto di Calafiori, perché vuole prendere quel tappabuchi in grado di fare ambientare tranquillamente in questa transizione il Bartesaghi. Quindi, per quanto riguarda questo, è fatto. Per quanto riguarda il difensore, ragazzi, ne ho parlato nel video di ieri, se non l'avete visto, ho recuperato. Il Milan ha chiuso praticamente per Pellegrino. Ieri il presidente del Platense è arrivato in Italia. Ragazzi miei, vuoi mai che un presidente si faccia un volo che taglia la terra in due per arrivare a Milano e non vendere il calciatore? È ovvio che quando è così già praticamente si era ultimato l'accordo. Poi, possibilmente, lui si fa un giro lungo in Italia perché voleva parlare con altre squadre di altri suoi calciatori. Però ecco, Pellegrino passare al Milan per una cifra, si dice, complessiva dai 5 ai 6 milioni, il percentuale sulla futura rivendita, circa 300-250 milioni di commissione agli agenti intermediari. Questa è la trattativa Pellegrino spiegata. Prenderà il posto di gabbia. Calciatore, e ripeto, in Argentina ne parlano un gran bene. L'unico difensore di pietre sinistro che avrà il Milan. Quindi, parliamoci chiaro. Chi ero dovesse rimanere al Milan, dovesse decidere di chiudere la guerrera al Milan come suo desiderio, dovrà in qualche modo però rinunciare al desiderio di giocare titolare. Secondo me avrà sempre più ruolo alla Ibrahimovic, ragazzi. Chi era un calciatore che o gioca sempre, prende condizione, prende le misure, oppure fa veramente fatica a giocare una partita su quattro. L'abbiamo visto l'anno scorso quando all'inizio faceva cavolate e poi quando è iniziato a diventare sempre più titolare, a giocare con le 3, 4, 5 partite di fila, si era il suo protagonista di partite importante. Ricordo quella contro il Napoli, contro Simende, ricordo quella contro Kane, dove ha praticamente annullato Kane. Quindi è un giocatore ancora in grado di dire la sua, però ecco, in questo Milan sicuramente, anche per il modo di difendere, molto votato all'attacco, all'aggressività, molto votato tra virgolette alla velocità, non è il difensore più adatto a coprire così tanto campo. Quindi sicuramente vedrai il campo un po' col binocolo. Detto questo, ragazzi, le altre uscite in questo momento, il Milan per quanto riguarda la trattativa Krunic, aspettatevi novità in un senso o nell'altro, non adesso, ma dopo, praticamente da lunedì notte fino alla partita col Torino, perché secondo me quella sarà la settimana ipotetica di una possibile trattativa per Krunic in Turchia, perché il calciatore ormai, il Milan ha preparato la partita col Bologna, sicuramente non lo vende in prossimità della partita col Bologna, magari ha un tacito accordo con l'allenatore per dare il 100% con dietro la promessa di essere venduto. Ragazzi, io spero che il calciatore venga venduto, perché non possiamo rinnovare il contratto a Krunic al doppio di quello che guadagna. Sarebbe una pedata nelle palle infinita, perché significherebbe poi fare il diavolo a quattro per vendere un calciatore di 30 anni l'ultimo anno monetizzabile, perché poi l'anno prossimo sarà scadenza un anno. Non facciamo la capolata di rinnovarlo, piuttosto cediamolo e prendiamo subito Nico Dominguez. Già dobbiamo avere l'alternativa pronta in mano, prendiamo subito Dominguez, mettiamoci a posto tranquilli e sereni. Per quanto riguarda, ragazzi, la punta, allora io non escludo sorprese a livello di nomi, però attualmente il roster delle punte è quello lì. Colombo andrà sicuramente in prestito, Colombo andrà in prestito non si sa, al 100% al momento sembra in avanti alla corsa il Monza e sono molto felice di questa operazione, perché un altro anno in una squadra a zona salvezza, ero d'accordo con il video di gioco, come mentalità magari non cresci, però andare al Monza, una squadra che possibilmente, dico, potrebbe lottare per arrivare settima in conferenze league, ecco, già lì aumentano le possibilità di entrare a far parte di un giro che come mentalità gli fa crescere di più. In una squadra importante, un palladino, un perfezionista, un allenatore come lui, ecco, secondo me potrebbe essere veramente in là a una bella carriera da parte di Colombo per poi venire l'anno prossimo al Milan entrando alla porta principale ed essere considerato pienamente nei 22. Detto questo, come punta, ragazzi, non mi sono sempre quelli là. E chi di che? Broia. Si dice che un Milan possa fare l'attaccante in prescito o con diritto qualora non dovesse uscire Orighi, qualora dovesse uscire Orighi per cui è arrivata una grande offerta dell'Al, Fetal, Fetial, Fuchal, la squadra allenata da Gerrard. In quel caso si potrebbe pensare, visto il grande risparmio per quanto riguarda l'ingaggio di Orighi, si potrebbe pensare a prendere il titolo definitivo. Non mi sono sempre quelli, Broia, che il Chelsea è il momento non libra perché non ha preso la punta. Come ho detto all'inizio del video, poi se n'è andato, quindi non so chi potrebbero prendere. E chi di che? Che il PSG sembra non volersene privare a meno di clamorose offerte ed il calciatore fa sapere che vuole rimanere in patria, quindi a meno di chi sono io, perché quando ti cerchi il Milan e tu vuoi rimanere in Francia piuttosto che te ne veggio per l'Alenz, e chi di che? Arrivederci e grazie. Il terzo nome è Lukaku, a cui personalmente, ragazzi, io non voglio fomentare nessuno, do il 5% di possibilità che arriva al Milan. È vero che aumentano le possibilità ogni giorno che passa, aumenta la possibilità che il Chelsea possa accettare delle operazioni fantasiosi stile Inter l'anno scorso, però io starei un po' cauto. È anche vero che Furlani l'anno scorso aveva scatenato l'area di Maldini superando l'area tecnica e chiamando il procuratore di Dybala per chiedere informazioni, quindi significa che è aperto a soluzioni del genere, però ecco, aspettiamo, aspettiamo. Ipotetiche sorprese al momento come punta non ne vedo perché Vellis, che tanto volevamo poi andato al Tottenham per 21 milioni totali, quindi un calciatore che valeva. Speriamo come è stato per Enzo Fernandez, come è stato per Julian Alvarez di non mangiarci le mani, però ecco, questo è quanto. Fatemi sapere, voi come, in qualche modo, completereste il mercato del Milan? Che acquisti volete che il Milan possa fare da qui alla fine del mercato? iscrivetevi tutti, mi raccomando, rispondo a tutti, un bel pollice ozzo in su, like al video, mi raccomando, non lo dimenticate mai, la cosa più importante per sostenere un creator, soprattutto, iscrivetevi al canale, raggiungiamo le 3000, ma che dico, le 5000 capocce nel miglior tempo possibile? Detto questo ragazzi, buon pranzo a tutti, buoni bagni, buoni ultimi giorni di mercato, lunedì si ricomincia, forza mila. Grazie.